allontanare tutte le persone contagiate poste in quarantena domiciliare dai loro nuclei familiari per evitare il rischio di diffusione del virus tra i parenti conviventi a chiederlo all'asla di salerno e alla regione campania il sindaco di scafati cristoforo salvati alla luce dell'alto numero di contagi registrato nell'ultima settimana nel centro dell'agro nocerino sarnese a confine con il territorio napoletano dove sempre negli ultimi giorni c'è stato un incremento di contagiati anche nelle comunità straniere l'idea del primo cittadino scafatese sarebbe quella di individuare alcune strutture dove poter trasferire i contagiati asintomatici almeno fino a quando non risulteranno negativi salvati ha annunciato di voler chiedere aiuto al presidente della giunta regionale de luca affinché possa mettere a disposizione della città di scafati risorse finanziarie per consentire appunto di individuare sul territorio queste strutture in tal modo evitando il rischio di ulteriori contagi l'idea sarebbe quella di creare una sorta di rete simile alle case famiglia o comunque strutture piccole dove poter ospitare in sicurezza gli asintomatici in attesa di avere riscontri salvati si è anche attivato con l'asla in particolare con il direttore di prevenzione domenico della porta per il trasferimento dei primi quattro cittadini scafatesi positivi asintomatici e posti sinora in isolamento domiciliare in una struttura pubblica di accoglienza dove poter concludere la quarantena i trasferimenti che proseguiranno nei prossimi giorni riguarderanno ha detto il sindaco in questa prima fase i cittadini che vivono in contesti familiari numerosi o che abitino in case piccole e poco funzionali all'isolamento la giornata di ieri comunque ha riservato notizie positive per scafati sul fronte del contagio con nessun caso nuovo e con tre cittadini che erano risultati positivi al virus guariti il numero totale degli infetti è sceso a 41